Ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi torniamo a parlare di hamster combat perché a breve dovrebbe esserci questo famosissimo lancio infatti è l'airdrop praticamente più grande più atteso di sempre e vedremo se riusciremo anche da qui a guadagnarci qualcosa ultimamente nel canale telegram avevamo messo l'airdrop di dogs che devo dire è andato abbastanza bene e vediamo se questo andrà ancora meglio ovviamente in descrizione vi lascio sia vabbè il link di hamster combat se ancora non lo utilizzate sono gli ultimi giorni è vero però magari riuscirete comunque a sfruttarlo vi lascio il link ovviamente del canale telegram dove di tanto in tanto rilascio diciamo questi airdrop o eventualmente qualche bonus se ci capita sotto mano niente andiamo a vedere cosa è cambiato dall'ultima volta tutte le novità come si può ricevere l'airdrop dove si può riscuotere eccetera quindi andiamo ad aprire subito la nostra app e andiamo a vedere le principali novità partendo dalla schermata principale la prima cosa che andremo a notare è proprio il gettone con scritto airdrop qui in basso a destra e ci verrà detto che l'airdrop verrà rilasciato il 26 settembre fino a qui la data diciamo era abbastanza conosciuto ormai ne stanno parlando tutti mancano 7 giorni hanno messo anche il conto alla rovescia ma c'è un ma perché la prima stagione di hamster combat si chiuderà il 20 quindi il 20 settembre la prima stagione verrà messa da parte dopodiché partirà la seconda stagione con tutte le novità che ne comporta hanno detto già che ci saranno grosse novità e ci saranno grandi cambiamenti quindi vedremo sono curioso anche io però diciamo al 20 che si chiude questa stagione da lì in poi chi ha accumulato accumulato poi dopodiché secondo me se ne parlerà alla prossima comunque sia come ricevere ecco qui allocation airdrop in base a cosa possiamo ricevere il nostro airdrop ma già cliccando qui ce lo va a dire e ci dice che l'airdrop terrà conto praticamente di tutto delle chiavi delle card e di tutto quello che hamster combat comporta quindi quanti amici abbiamo invitato e tutto il resto tutto quello che troviamo nell'applicazione è tutto buono e tutto valido per accumulare punti nell'airdrop altre novità vabbè abbiamo visto questa sezione dove ci sono le skin e se andiamo su see all vediamo che ci sono tutte queste card ovviamente più card riusciamo a collezionare e più ovviamente riceveremo punti per l'airdrop che speriamo di ricevere un bel po' ovviamente poi farò un video aggiornamento per farvi sapere quanto ho ricevuto di ardrop con dogs sono riuscito a guadagnare circa 38 euro senza far praticamente nulla qui diciamo che ci siamo un po' impegnati a giocare eccetera quindi diciamo forse dovremmo riuscire a prendere qualcosina in più ma vi terrò aggiornato e vi farò sapere altra novità che sicuramente magari avrete già visto sono le chiavi come si fa a ricevere le chiavi basta andare nel playground stanno aggiungendo sempre nuovi giochi quindi è diventato proprio un hub di questi minigame sia minigame sia giochi un po' più sostanziosi dove appunto giocando giorno per giorno poi a un certo punto vi daranno questo codice e potete riscuotere delle chiavi ci sono altre chiavi da riscuotere quando andate a fare il click per le daily rewards ecco qua ogni volta che andrete a cliccare giorno per giorno vi darà o dei gettoni o delle chiavi quindi ecco come accumulare le chiavi ma adesso vorrei passare un attimo alla fase più sostanziosa anzi no una cosa che vorrei aggiungere anzi è proprio nella sezione minigiochi perché ovviamente all'interno dei giochi ci sono delle pubblicità dalle pubblicità si generano soldi e quindi hanno creato lo stesso tra virgolette sistema di quello relativo ai video perché se noi andiamo qua e vediamo che possiamo ricevere dei gettoni guardando video su youtube quindi tra virgolette riuscire a guadagnare qualcosina guardando i loro video ovviamente loro volta guadagneranno o dalla monetizzazione o dalle eventuali sponsor con exchange eccetera quindi posso dire che secondo me hanno creato veramente un bel sistema chiusa questa parentesi sia sui video sia sui giochi eccetera direi di parlare proprio dell'airdrop in sé per sé come riceverlo e dove riceverlo basterà collegare uno di questi wallet quindi o binance okx bybit il wallet di telegram che penso che userò questo oppure ebi exchange e di questo ve ne voglio parlare un secondo ma vi faccio vedere magari la grafica qui di che cos'è e come funziona come vedete a differenza degli altri è l'unico che ha la scritta no che vai sì quindi non c'è bisogno di inviare i propri documenti fare la classica registrazione eccetera quindi una volta aperto questo exchange come funziona si va a collegare a un wallet decentralizzato che può essere metamask phantom eccetera quindi veramente semplicissimo una volta all'interno dell'exchange avete il vostro id quindi avete creato il vostro tra virgolette account all'interno dell'exchange e poi lo andrete a collegare qui direttamente su telegram quindi veramente facilissimo e soprattutto decentralizzato vi lascio anche il link di ebi per facilitarvi le cose ve lo lascio qui in descrizione e niente detto questo io credo che lo farò su telegram anche se per quanto riguarda dogs ci sono stati dei ritardi con il wallet telegram l'altra volta non so se è capitato anche a qualcuno di voi sicuramente sì perché me l'ha detto già più di una persona ovvero che secondo me era tipo intasato non so comunque va bene quando entravi in dog se facevi riscuoti tipo airdrop wallet di telegram il tasto diciamo si è sbloccato dopo un po di tempo non si riusciva proprio a cliccare praticamente ma va bene lo stesso sono riuscito comunque a guadagnare qualcosina quindi va bene comunque e anche in questo caso questa volta ho collegato il wallet di telegram ma sto valutando se collegare ebi exchange visto che è decentralizzato e magari sarà un po più diretto forse chissà lo scopriremo soltanto in questi giorni quindi ricapitolando il 20 chiude il primo capitolo di hamster combat dopodiché ci saranno le novità ma l'airdrop verrà rilasciato il 26 non so se ci sono altri aggiornamenti da fare o altrimenti ci aggiorniamo per quanto riguarda hamster combat o nel canale dove vi vado a lasciare tutti gli aggiornamenti o altrimenti direttamente dopo il 26 farò un altro video dove andiamo a capire quanto saremo riusciti a guadagnare da quest'airdrop e eventualmente andare a spulciarci tutte le novità che ci saranno detto questo noi ci vediamo al prossimo video